La settimana stabilita a livello nazionale dove tutte le protezioni civili regionali e anche quella nazionale organizzano per una settimana attività sul territorio per dare sì che il cittadino prenda coscienza di quello che l'organizzazione fa e come si muove e i materiali che ha a disposizione. Quindi su tutto il territorio ci saranno attività fatte dai vigili del fuoco, dai nuvola, dal soccorso alpino, dai cani da ricerca, dagli psicologesi per i popoli e questo insieme o singolarmente anche nelle scuole e nelle piazze. In Val di Fassa hanno costruito questa notte da evacuati e quindi le organizzazioni di volontariato hanno simulato quello che per i ragazzi significa provare, uscire di casa e stare fuori e lontani da casa in una situazione d'emergenza. Quindi c'è questa attività. Poi abbiamo organizzato l'evacuazione delle scuole, abbiamo organizzato una simulazione con IT alert sulla diffusione dell'onda di piena in Val Sugana e quindi avrete modo di vedere anche un nuovo modello di informazione per i cittadini per trovarsi in una situazione potenzialmente anche locale molto piccola di pericolo dal quale devono stare lontani. Quindi una serie di novità e poi ci sono tre convegni indirizzati a professionisti, a sindaci e alla popolazione che vorrà partecipare. Si terranno alla sala della cooperazione lunedì e martedì e poi venerdì e sabato invece al Muse, dove i bambini se vengono troveranno anche modo di avere e accedere ai mezzi della protezione civile quindi della forestale, dei vigili del fuoco, del soccorso alpino, quindi sarà anche carino. C'è una bella esercitazione con l'elicottero sull'evacuazione della funivia di Sardania che sarà anche abbastanza spettacolare.